Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca giudiziaria. Questa mattina udienza di convalida nel carcere di Arezzo per Francesco Colonna, la guardia giurata che ha ferito con un colpo di pistola il cognato. Il GUP, dopo essersi riservato al termine dell'udienza, ha deciso nel pomeriggio per la convalida dell'arresto con la misura della custodia cautelare in carcere come chiesto dalla pubblica accusa. Vediamo il servizio. È sotto sciocco ovviamente, situazioni maturate in ambiente familiare, cognato, al quale peraltro è molto legato. Lui a questo cognato è molto molto legato. Si è tenuta presso il carcere di Arezzo l'udienza di convalida dell'arresto per Francesco Colonna, il 41enne guardia giurata, che nella serata del 25 gennaio ha sparato al cognato Luca Valli. L'uomo si trova adesso ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Arezzo. Colonna è accusato di tentato omicidio. È assolutamente collaborativo, disponibilità forse, vediamo, vediamo un pochettino, vediamo un po'. Purtroppo è un incidente e non poteva confermare altro che quello che effettivamente è accaduto. Un disgraziato incidente. La vicenda, avvenuta in una palazzina di via Pietro Benvenuti ad Arezzo, dove il 41enne risiede con la madre e il fratello, si è consumata in ambito familiare. Colonna stava discutendo animatamente con la sorella dal primo pomeriggio, pare per la cura dell'anziana madre. La discussione è degenerata e la donna ha chiamato in suo soccorso il marito Luca Valli. Cosa sia successo in quegli attimi ancora non è chiaro. Alle 18.30 è partito un colpo dalla pistola che Colonna detiene personalmente per il suo lavoro che ha raggiunto all'addome il 44enne. Le guardie giurate l'arma la devono acquistare. Sì, la devono acquistare. Perciò ha detto Gianluca che è di sua proprietà l'arma. Non è come le forze di polizia l'hanno in dotazione e la devono restituire. Cioè è obbligato a tenerla con sé? È obbligato a tenerla con sé, ovvero tenerla in luogo sicuro, non accessibile eccetera. Siccome però lui non era in servizio, perché aveva l'arma? Perché non aveva un luogo sicuro, non accessibile. E avendo un fratello e una mamma in casa preferiva tenerla addosso. Per ragione di sicurezza. Da questo punto di vista è stato eccepito qualcosa sulla custodia dell'arma oppure no? La domanda è stata fatta e questa è la risposta che lui ha dato. Il giudice ha convalidato l'arresto confermando la custodia cautelare in carcere. E ancora cronaca tragedia nelle montagne aretine. Una levatrice di cani è stata trovata morta sull'Appennino nella neve a pochi chilometri da Badia Tedalda. L'ipotesi è un attacco cardiaco per il freddo. Vediamo il servizio. È stata ritrovata senza vita congelata assieme a tre dei suoi cani su un sentiero appenninico a 5 chilometri dall'abitato più vicino Badia Tedalda. Il corpo giaceva in mezzo alla neve su un sentiero isolato. La vittima si chiamava Cristiana Gugu e aveva 50 anni. Da tempo viveva da sola in compagnia dei suoi cani nell'osi della Chiocciola in una casetta di legno. La zona in estate è frequentata da escursionisti ma è d'inverno isolata e deserta a trovare il corpo senza vita. Casualmente lo scorso martedì sono state alcune persone che stavano ripulendo i sentieri forestali dopo le copiose nevicate che hanno portato oltre un metro di neve. Inutile purtroppo i soccorsi. La donna era già morta molte ore prima. L'APM Giulia Maggiore ha disposto un accertamento cadaverico e da questo è il risultato come la donna si è stata stroncata da un attacco cardiaco provocato molto probabilmente dal forte freddo. Il magistrato ha così dato in nulla osta per i funerali che saranno svolti a Sansepolcro. Proprio qui la donna era stata vista l'ultima volta in vita. E torniamo alla cronaca. Ladri acrobati hanno messo a segno un colpo nella notte ad Arezzo allo Showgarden. Quando la sirena dell'allarme ha suonato erano le due circa. I ladri si sono calati dal soffitto. I malviventi hanno cercato solo soldi contanti. Hanno svuotato i fondi cassa e hanno estratto le monete presenti all'interno delle macchinette del caffè. I prodotti dello store non sono stati toccati. Tutto sarebbe avvenuto in pochi minuti. Il sistema anti-intrusione di PM allarmi si è infatti attivato allertando la centrale operativa del corpo vigili giurati e i carabinieri. E dando così poi alla fuga i malviventi. E adesso apriamo la pagina dedicata alle celebrazioni odierne legate alla giornata della memoria. In questa occasione il sindaco di Arezzo Ghinelli accompagnato dal consigliere Andrea Gallorini ha partecipato oggi a Hausfilm alle cerimonie per il 78esimo anniversario della liberazione da parte dell'Armata Rossa del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Il sindaco ha deposto un mazzo di fiori in memoria delle vittime dell'olocausto e ha preso parte a tutti i momenti commemorativi previsti dal programma della giornata. La delegazione aretina è stata ricevuta dal sindaco di Hausfilm. Insieme è stata riconosciuta e sottolineata l'efficacia e la concretezza del gemellaggio che dal 2009 lega alla città di Arezzo alla città polacca impegnate insieme in quest'ultimo anno nel sostegno e nell'aiuto alla popolazione ucraina. E ad Arezzo insieme alle autorità civili e militari il vice sindaco Lucia Tanti ha deposto una corona al cimitero degli ebrei nel parco Ducci. Vediamo il servizio. Era il 27 gennaio 1945 quando le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Oggi anche Arezzo a 78 anni di distanza celebra il giorno della memoria ricordando le vittime dell'olocausto. Noi abbiamo il dovere di ricordare, di ricordare per non dimenticare soprattutto oggi che le testimonianze dirette di persone ancora in vita sono sempre meno. Quindi rivolto a tutti noi, rivolto in particolare anche ai ragazzi, ai più giovani, è un momento fondamentale perché non si può dimenticare l'orrore dell'olocausto, non si può dimenticare l'orrore della deportazione ed è proprio sul memoria che si fonda poi il nostro futuro. La cerimonia ufficiale, come sempre al cimitero ebraico di Arezzo, meglio conosciuto come il campaccio degli ebrei, qui è stata diposta una corona dall'oro alla presenza delle autorità locali. Una giornata irrinunciabile, nel senso che sottolinea un ricordo che non deve spengersi mai, come ha ricordato anche la senatrice Segre. Quindi il tempo a volte può indebolire la memoria, e noi abbiamo il dovere e anche il diritto di non indebolirla mai perché questo è il fatto più tragico che le esperienze umane ricordi e quindi se è accaduto può riaccadere e allora dobbiamo essere tutti solerti, vigili perché questo non riaccada mai più. Una giornata per non dimenticare quello che è stato e perché non ricapitime più oggi più che mai con eventi di guerra che continuano a soffiare così vicini. È un giorno importante che oggi ha una doppia valenza proprio per questo tema e che ci ricorda che purtroppo le battaglie che abbiamo fatto nella nostra Europa civile, diciamo quella degli ultimi 50-60 anni, ancora oggi sono battaglie da vivificare, dunque da portare avanti anche per le nuove generazioni. E sono molteplici anche le iniziative organizzate dall'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella con il contributo del Comune di Civitella in Val di Chiana per il ricordo della Shoah. Il servizio. Le farfalle gialle che volano sopra ai fili spinati all'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella per ricordare la Shoah. Noi abbiamo affrontato questa tematica delle farfalle per rappresentare la speranza che queste tragedie non succedano più nel passare degli anni e pure la libertà. La Scuola per la Memoria non si ferma con molteplici iniziative organizzate in occasione della Giornata della Memoria. Purtroppo l'uomo continua ad essere lupo tra i lupi e quindi noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi ad essere consapevoli e pronti a reagire e a opporsi ogni volta che la guerra si avvicina. Tante delle frasi dei ragazzi sono proprio legate a una memoria che però è diventata attuale con la guerra in Ucraina. Per loro, per i ragazzi, stanno cominciando a vivere la percezione di una guerra che è guerreggiata e non solo più pensata come un'operazione economica. Dalle letture alla visione di film fino alle farfalle gialle con dietro una frase, una riflessione, una parola o un'emozione da ricordare. Viviamo in un momento molto particolare in cui la guerra costantemente ci viene riproposta nei giornali, nei telegiornali. Quindi hanno cercato di portare un messaggio di speranza realizzando insieme alle docenti di arte delle farfalle che appunto vogliono proprio dare questo messaggio non solo a loro e compagni alle famiglie ma anche a tutta l'umanità, a tutti i compagni di altri stati, di altre nazioni. Le farfalle gialle sono state esposte all'esterno dell'Istituto Scolastico di Badia Alpino come messaggio di speranza e libertà. E adesso andiamo a Cortona dove l'amministrazione comunale ha celebrato la giornata della memoria con una mattinata per gli studenti. Alice Ricciardi von Platten è stata una figura centrale non solo per Cortona ma proprio per la storia e per il processo di Norimberga. È la figura di Alice von Platten, psichiatra e membro della Commissione Medica al processo di Norimberga contro i crimini nazisti, quella scelta dall'amministrazione comunale di Cortona per celebrare il giorno della memoria. La psichiatra cittadina onoraria di Cortona scomparsa nel 2008 all'età di 97 anni è considerata uno dei simboli di quello che viene ricordato come il processo ai dottori o processi secondari di Norimberga. L'argomento della difesa di questi medici in particolare sostenuto da Karl Brandt riguardava il giuramento di Ippocrate cioè Brandt disse che il giuramento di Ippocrate era anacronistico e che quindi non poteva essere portato dall'accusa come prova nei loro confronti. Sì, allora Brandt specialmente era naturalmente fino alla fine della sua vita fanatico che era una cosa buona di fare la medicina per il popolo pulire il popolo da elementi non buoni e costruire un nuovo uomo ariano alto, forte, biondo è un po' stupido certamente. Ad ospitare le letture tratte da una sua pubblicazione la sala del Consiglio Comunale di Cortona. Chiamata come uditrice al processo dei medici nazisti che è stato il secondo dopo quello più famoso contro i crimini di guerra appunto ebbe modo anche di scrivere un interessantissimo libro dal titolo Etonasia e i malati di mente che venne boicottato totalmente immediatamente dopo la guerra ma che ebbe un grandissimo successo negli anni Ottanta quindi oggi la ricordiamo ricordiamo questa grandissima figura che è anche cittadina onoraria che è stata cittadina onoraria della città di Cortona. Quando Francesco a testi mi ha chiamato per fare questo intervento e leggere alcune cose tratte dalla Shoah io subito di getto ho detto sì poi preparandolo mi sono accorto di una cosa fondamentale che non era adeguato non era adeguato non tanto come attore quello sarebbe il meno dopo tutto quello che ho fatto nella mia carriera io penso di non essere adeguato come essere umano ma chi potrebbe essere? Chi potrebbe essere? E allora mi sono detto io ho un unico modo per fare questa cosa non interpretare ma leggere le parole sono così dure e pesanti che bastano a loro io sarò solamente una voce che dice delle parole e spero che questo sarà d'aiuto. E in occasione della giornata della memoria vi ricordiamo che subito dopo il nostro telegiornale andrà in onda l'ultima testimonianza di Liliana Segre avvenuta il 9 ottobre del 2020 a Rondine, cittadella della pace sentiremo anche il saluto dell'allora presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e chiudiamo questa ampia pagina dedicata proprio alla giornata della memoria e torniamo adesso alla cronaca dopo mesi di apprezzione è stata ritrovata la coppia di anziani stranieri della quale si erano perse le tracce ormai da molto tempo a rintracciare i coniugi sono stati i carabinieri di Arezzo vediamo il servizio è stata ritrovata la coppia belga che risultava scomparsa nel retino a rintracciare gli anziani coniugi i carabinieri di Arezzo marito e moglie si trovavano in un'abitazione della provincia di Arezzo diversa però dalla loro residenza a Capolona dove non avevano fatto rientro da tempo destando così forte preoccupazione l'ultimo avvistamento risaliva lo scorso luglio i parenti che si trovano in Belgio erano molto preoccupati per la loro sorte non avendo loro notizie da tempo sul caso stavano indagando i carabinieri e si era interessata anche la prefettura nelle scorse ore i due entrambi ultra settantenni stanno bene e si trovano in un'abitazione del territorio aretino nelle prossime ore spetterà ai carabinieri capire meglio i contorni di questa vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso parenti e conoscenti nelle ultime ore oggi finalmente l'epilogo positivo ancora un attacco dei lupi in provincia di Arezzo a questa volta è toccato a Lignano dove sono stati ritrovati senza vita pecore e muffloni il servizio di Chiara Sadotti continua a crescere l'allarme per gli attacchi dei lupi nelle frazioni dell'aretino questa notte una strage di muffloni e pecore all'interno del parco di Lignano in località Rigutinelli stamani una carneficina a Lignano non ci dà tregua questi attacchi i lupi continuano a circondarci qui a Rigutino a Civitella Piavaltoppo adesso a Rigutinelli 5 gli animali ritrovati senza vita nei recinti del piccolo parco a pochi chilometri dalla città di Arezzo le carcasse, le tre muffloni e due pecore sono state trovate questa mattina sul posto il personale dell'asla veterinaria e quello del comune di Arezzo proprietario del parco quindi cosa facciamo adesso? si interviene o si sta ancora zitti? sempre nelle ultime ore un nuovo avvistamento ancora una volta in Valdichiana un esemplare di lupo è stato infatti fotografato a Piavaltoppo a pochi chilometri dalle abitazioni questa sera a Rigutino dove si sono concentrati avvistamenti e la preoccupazione della popolazione è salita si riunirà per la prima volta il comitato spontaneo di cittadini che chiedono alle istituzioni di intervenire dopo i ripetuti attacchi che hanno provocato la morte di pecora un'oca ma anche animali da compagnia esatto, esatto è questo che noi chiediamo che gli chiediamo un supporto un aiuto, un contenimento un qualcosa che possano fare darci una mano gli attacchi da parte dei lupi nei confronti degli allevamenti situati nella provincia di Arezzo si stanno facendo sempre più numerosi apportando gravi danni agli allevatori della provincia di Arezzo lo afferma Marco Casucci consigliere regionale della Lega è un fenomeno quindi da non sottovalutare ritengo che la regione debba essere vicina a chi subisce gravi perdite economiche a seguito di questi accadimenti prosegue il consigliere per tale motivo precisa ho quindi predisposto un'interrogazione in cui chiedo se gli indennizi a favore delle aziende colpite dagli attacchi predatori saranno rinfinanziati oltre a ciò sottolinea ancora il consigliere vorrei conoscere se la regione pensi ad intraprendere mirate azioni anche a sostegno di privati cittadini che abbiano parimenti subito dei danni sempre a causa dei lupi e adesso torniamo a Cortona perché scricchiola la maggioranza politica del sindaco di Cortona Luciano Meoni nella seduta odierna del consiglio comunale che prevedeva la votazione del bilancio previsionale i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Cortona annunciano l'astenzione presagendo d'ora in poi il cosiddetto appoggio esterno alla maggioranza di governo ad annunciare le ragioni in una lunga e accurata requisitoria è stato Nicola Carini presidente del consiglio comunale e figura a dispicco di Fratelli d'Italia Cortona che imputa la scelta ad un mancato coinvolgimento sulle decisioni strategiche di questa amministrazione non sfiduceremo mai questo sindaco perché sarebbe atto grave contro la volontà popolare ma avremo un atteggiamento positivo o negativo in base al nostro coinvolgimento nelle decisioni della giunta conferma Carini che aggiunge per noi oggi non è una chiusura ma un'apertura per un cambio di pagina Carini rimette all'aula il suo posto di presidente qualora conferma qualcuno pensi che non ho svolto bene il mio dovere Meoni minimizza e ricorda prendo atto della scelta e rinnovo la mia disponibilità al confronto come ho già fatto in passato e adesso una comunicazione di servizio perché la provincia di Forlì Cesena comunica che nel versante romagnolo della SP310 della Calla a causa della caduta piante piccole slavine ha disposto la chiusura la SP310 della Calla rimane invece aperta solo nel versante della provincia di Arezzo e per altre cinque filiali di intesa San Paolo nella provincia aretina si prospetta a breve la chiusura lo comunica la sigla sindacale CISL si parte intanto con rimodulazione dei servizi e accorpamenti ad essere penalizzati sono ancora soprattutto i piccoli comuni stavolta toccherà alle sedi di Rassina Bucine Marciano della Chiana e Mercatale di Cortona che verrà sicuramente chiusa a fine marzo nonché alla filiale Aretina di Via Trento e Trieste rispetto a questa situazione spiega Silvia Russo segretaria generale della CISL di Arezzo dichiara la sua contrarietà e chiede un ripensamento della gestione aziendale per operazioni effettuate probabilmente in una mera ottica di risparmio gestionale e che alterano ancora di più i già precari equilibri esistenti tra lavoratori e clientela ed è stato assegnato oggi a Roma nella sede del CONI la quinta edizione del premio giornalistico Estra per lo sport raccontare le buone notizie promosso da Estra in collaborazione con USSI Unione Stampa Sportiva Italiana e SG Plus l'iniziativa che anche quest'anno ha ottenuto un grande successo con oltre 330 servizi valutati dalla giuria prima dell'inizio delle premiazioni Estra ha voluto riconoscere un premio speciale a Luca Valdisserri per aver saputo trasformare la peggiore delle notizie la morte del figlio Francesco in un incidente stradale in un atto d'amore verso il prossimo per la carta stampata è stata premiata Eleonora Cozzari del Corriere della Sera categoria web e blog Giulia De Stefanis repubblica.it categoria televisione e radio vincitori ad ex equo Ida Barone Tgcom24 e Andrea Caruso Rai Tgr Campania e adesso passiamo allo sport perché sono già andati esauriti biglietti a disposizione dei tifosi amaranto per la partita che si giocherà domenica alle 14.30 allo stadio Matteini di Terra Nuova Bracciolini il tavolo tecnico per l'ordine pubblico e la sicurezza ha dato il via libera alla vendita di 450 posti in tribuna per i sostenitori a retini il costo dei tagliandi è di 12 euro mentre gli under 12 potranno accedere gratuitamente all'impianto sportivo presentando un documento di identità valido i ticket disponibili dalle ore 16 di ieri sono andati esauriti in poche ore il tavolo tecnico ha optato per convogliare i tifosi dell'Arezzo in un unico settore quello di tribuna così come era accaduto per quelli del Livorno in occasione della partita di settembre giocata a Terra Nuova e l'Arezzo calcio femminile comunica che durante la partita ACF Arezzo Napoli femminile di domenica 15 gennaio Evelyn Vicchiarello ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro gli esami clinici e strumentali eseguiti nei giorni scorsi hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore Vicchiarello sarà quindi sottoposta ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni e chiudiamo con il basket perché domani alle 19 l'Amen Scuola Basket Arezzo tornerà sul parquet amico del Palasport Estra ospitando il CLS Quarrata per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Gold e con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata arrivederci a